Il Palazzo dell'Acqua, sede di Acquedotto Pugliese, ad agosto il sold out, a pochi giorni dall'annuncio delle visite guidate gratuite, anche nei fine settimana del mese e a ferragosto, tutte le date per scoprire la storica sede barese di via Cognetti 36 sono già prenotate. Anche a settembre le visite si svolgeranno il sabato e la domenica in due turni d'un'ora ciascuno, dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle 12. Nel 2023 circa 1300 persone hanno visitato il Palazzo dell'Acqua. Dal 2000, anno in cui Acquedotto Pugliese ha aperto le porte dell'edificio ai visitatori, ingressi totali sono stati oltre 45.000. La sede di Acquedotto Pugliese è un vero e proprio monumento all'acqua, un patrimonio architettonico e decorativo per celebrare il primo zampillo d'acqua a Bari nel 1915, la definitiva liberazione della Puglia dalla piaga della scarsità idrica. Il palazzo che nasce sul tema dell'acqua ha tutta una serie di riferimenti all'interno, dai mobili alle stanze dipinte con il tema dell'acqua, le famose signore che portavano l'acqua sulle spalle, i cavalli che bevono acqua pura, tutto è un richiamo a questo tema. I grandi adduttori con i ponti, i grandi canali che portano l'acqua direttamente accadute senza le pompe giù da noi per 250 chilometri, quindi sicuramente è un inno a un'opera grandiosa che l'uomo ha saputo fare più di 120 anni fa. Ed è un palazzo da vedere perché è unico nel suo genere, è rarissimo trovare anche in Italia un palazzo tematico, cioè in cui l'elemento conduttore è come nel nostro caso l'acqua. Non è una cosa molto comune e quindi sono contento che la gente l'abbia scoperto e stia venendo continuamente a guardare le cose che noi abbiamo ed è motivo d'orgoglio il possesso di questo palazzo da parte dell'Ottoculiese.